Bene, benvenuti a tutti, mentre aspettiamo che arrivino gli altri partecipanti, sappiamo che fuori come al solito il traffico è abbastanza congestionato, vi assicuriamo che ieri era peggio, qua c'era di tutto, c'era in sto posto qua, dal traffico, sciopero della metro, c'era il Milan qua, felicissimi tra l'altro. Cominciamo per presentare lo staff del board del VMUG di quest'anno, abbiamo una new entry, Giovanni, per cui se quest'anno la user conf non risponderà alle vostre aspettative è colpa sua, perché è l'elemento di novità, il classico debugging si fa, cosa abbiamo messo di nuovo? Lui, per cui è colpa sua. No, chiaro, ci auguriamo che sia, come sempre, una bella esperienza, quindi benvenuti, benvenuti a tutti, grazie a voi se riusciamo a fare questi eventi, posso dire finalmente, che bello, l'anno scorso ci abbiamo provato con un po' di fatica, però una community nasce dal rapporto delle persone, quindi se siamo qui è grazie a voi. In questi due giorni è successo di tutto, per cui abbiamo dovuto cambiare l'agenda fino a 20 minuti fa. In particolare le due rock star che ci devono essere ci sono beccati il covid, uno tra l'altro Frank l'ha anche documentato ampiamente, per cui così ci dispiace, ma abbiamo fatto non quello che potevamo fare, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Cioè in evento comunitario abbiamo coperto le loro sessioni con sessioni comunitarie, per cui ce ne saranno un po' di più, spezzate e diluite. Una sarà Nils, che invece di fare una sessione parallela gli abbiamo chiesto di fare la keynote, è a livello di Cormac e di Frank, quindi non è assolutamente un ripiego, per cui sarà lui a fare la prima keynote, mentre quella del pomeriggio, per sostituire Cormac ci siamo messi in due io e Andrea, per compensare e parleremo dell'architettura V-SAN, le modalità due nodi e stretch, piuttosto che novità della 8. Vorrei citare un piccolo, Franzo vuole aggiungere qualcosa sulla V-SAN, è espertissimo, è cose nostre, non vi preoccupate, ha già la sua sessione. Tra l'altro mi piace ricordare che la prima volta che si parlò di V-SAN, quasi worldwide, fu Cormac a una user con italiana di 5-6 anni fa, per cui è stato un ripetersi. Dunque, qualcosa di logistica, qui ci saranno le keynote, mattina, pomeriggio, mentre le sessioni parallele saranno di sopra, nelle sale Velasca, Torre Galfa e Gaolenti. Abbiamo messo le keynote vicino all'inizio o alla pausa pranzo per evitare spostamenti. Per andare di sopra, si ritorna vicino al desk della registrazione, ci sono le scale, tre sale, ok? Mentre tutta la parte di catering e sponsor, come avete già visto, è tutta qua. Abbiamo l'app, trovate in giri QR code o potete, se ce la fate, prendere questi, dove c'è l'agenda giornata, sale e orari. Ripeto, l'ultima l'abbiamo appena spostata 20 minuti fa, per cui in ogni caso nelle sale ci sono i pannelli con tutto il programma. Ma le breakout session sono di sopra, quindi se non è la sala quella, è quella di fianco, non è molto difficile. Due cose sul VMUG. In particolare, per chi non lo sapesse, esiste un programma che si chiama VMUG Advantage, che è un programma a pagamento che dà diritto a tutta una serie di agevolazioni. Dà l'utilizzo del software in NFR per un anno, piuttosto a sconti per la parte education, la partecipazione, do per dire al VMworld, quest'anno si chiama VM Explorer, piuttosto che l'accesso a piattaforme per provare le soluzioni. Se qualcuno fosse interessato, c'è il desk del VMUG nella prima sala d'ingresso e per i partecipanti a questo evento c'è uno sconto aggiuntivo del 10%. In ogni caso, un programma VMUG Advantage sarà messo in palio alla fine dell'evento. Sapete che facciamo sempre un raffle di premi, più che altro per salutarci, un po' di brindisi, bere, perché ci vuole. E tra i premi estratti ci sarà anche un VMUG Advantage. Legato all'estrazione dei premi c'è anche il Passport to Prizes. Se andrete presso questi sponsor, quindi Dell, Control App, Vim, Oracle Cloud, HPE, Rancast, Esevirt e prenderete i bollini, potrete partecipare all'estrazione di premi. Tra cui, la McLaren, tra l'altro ne abbiamo due, vero Dell? Ne abbiamo due, perché anche Dell ne ha portato un altro. I vincitori delle due McLaren dovranno rimanere qui, dovranno montarle e verrà fatta una gara qui, ok? Chiaro? Chiaro? Se no le prendo io, ok? Io ci rimango. Beh certo, sì, non ho capito. Tra le varie cose che mettiamo in palio anche noi sono quattro libri, quattro copie di due libri, tra l'altro di Cormac, Cormac doveva essere qua a firmare, se volete, cioè Francesca li firma, li firma volentieri, c'è a scrivere Cormac Ogan benissimo, l'ha provato tutta la notte, è la sua tragedia. Poi un giorno, se qualcuno vuole, dopo vi raccontiamo perché lo prendiamo sempre in giro. Non c'è altro da dirvi, non voglio rubare spazio, io spero che sia una giornata piena, bella, spero che sia interessante, ma soprattutto easy, facile, cioè godiamocela. Io ne sentivo la mancanza onestamente, per cui grazie a voi, aspettiamo ancora della gente che sta ancora arrivando. Ma seconda cosa, perché rimane più l'ultimo, la devi ricominare è a poco. Sì, sì, sì. È come la birra analcolica, non esiste la birra analcolica, non c'è nient'altro. Se qualcuno ha delle domande, noi siamo in giro, maglietta nera, Vimug, leader, rompeteci le scatole. Non ho detto faccetta nera, stai calmo Antonio, adesso. Ho detto maglietta. Ok, sono stato nei miei dieci minuti, buona giornata, ci vediamo stasera alle sessioni o in giro. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.